Se state cercando lavoro o volete cambiare lavoro, quello che vi serve è un headhunter. Lo so, la traduzione in italiano di headhunter è cacciatore di teste e fa un po' paura, ma stiamo parlando di una figura professionale esperta nella ricerca di personale qualificato. Oggi parleremo con Michela Barlocco, una recruiter attiva in Ticino con un'esperienza ultraventennale alla quale chiederemo i trucchi per trovare lavoro in Svizzera. Io lavoro per Siedler, è una società basata appunto in Canton Ticino ed è specializzata appunto nell'headhunting. Io sono appunto sia consulente che headhunter. Che cosa significa? Se dovessimo tradurlo così alla lettera, parliamo proprio del classico cacciatore di teste. Poi diciamo che è un termine magari che non si usa più, ma di fatti insomma noi ricerchiamo personale che è altamente qualificato per i nostri clienti. Per cui si tratta proprio di cercare attivamente tramite il nostro network, tramite appunto vari software che vengono utilizzati, le persone che sono assolutamente migliori per le esigenze dei nostri clienti. Ecco, quando magari un poco esperto viene a sapere dell'esistenza di questo lavoro, dice ma che lavoro strano, ma perché uno avrebbe bisogno di un headhunter? Da imprenditore invece uno sa quanto è importante questa figura perché ricercare personale di qualità è una delle cose più difficili in assoluto e bisogna saperlo fare e se non ti affidi a qualcuno è un processo che costa tantissimo sia in termini economici che di energie. In termini di tempo, esatto. Infatti i nostri clienti si affidano a noi proprio per questo motivo perché è molto dispendioso in termini di tempo ricercare le persone adatte per determinati ruoli. Prima di tornare a parlare con Michela volevo invitarti a visitare il nostro sito www.cambiavalute.ch Se sei un frontaliere o comunque necessiti di cambiare franchi svizzeri in euro e viceversa, sul nostro sito il cambio lo puoi fare online risparmiando tantissimo rispetto ai cambi tradizionali. Ti lascio il link in descrizione, torniamo a parlare con Michela. Anche noi investiamo chiaramente tanto tempo, è chiaro che avendo un network, avendo dei software, avendo un database ricco di informazioni e di dati, è possibile in breve tempo riuscire a presentare una rosa di candidati perfettamente allineati, anche perché non si parla di grandi numeri, sono magari due o tre persone perfettamente allineate sulla base delle esigenze. Quindi anche il cliente chiaramente si rivolge a noi per evitare un dispendio di tempo che è veramente infinito a volte. Tieni presente che le elezioni durano anche parecchio tempo e non necessariamente si tratta di una settimana, due, come magari si può immaginare, a volte diventano anche mesi. Quando parliamo di figure altamente specializzate, manager, perché poi il tar di riferimento è esattamente questo, ricerca executive si tratta veramente di processi di selezione che durano anche parecchio tempo, ma banalmente perché incontrano diverse figure all'interno dell'azienda, board e quant'altro, per cui è assolutamente utile. E ti direi tailor-made, perché è un po' il nostro principio, uno delle nostre basi e dei nostri valori è seguire il nostro cliente in maniera veramente sartoriale. Quindi cosa hai bisogno e cerchiamo di capire con un brief iniziale quali sono le loro esigenze e poi cercare di fornire assolutamente la persona migliore che possiamo trovare sul mercato e insomma accontentare in realtà due attori. Uno è il cliente e dall'altra parte abbiamo comunque, ricordiamoci sempre, un candidato o una candidata. Fate incontrare la domanda e offerta esattamente come succede sul mercato, quindi è il mercato del lavoro, infatti si chiama così proprio per questo, è un vero e proprio mercato. Non è sempre oltretutto tangibile, perché stiamo parlando di un mercato più che altro nascosto. Si intende il mercato che magari non è visibile, magari tramite un annuncio di lavoro, perché la ricerca che facciamo è assolutamente sul mercato. Quindi andiamo per ricercare la figura perfetta, non necessariamente con i classici canali che magari non si può immaginare. Anche perché tante volte magari cercate delle posizioni molto particolari e anche sono posizioni riservate, diciamo, magari l'azienda non vuole far sapere che sta cercando una figura in quell'ambito, quindi è molto particolare. Tu invece Michela, da dove arrivi? Raccontaci un po' di te, sei italiana, sei svizzera, di dove sei? Allora, io sono italiana e lavoro in Svizzera da quattro anni, ormai appunto in Siedler, ma in precedenza arrivo tendenzialmente, ti direi, dalla piazza milanese per quanto riguarda questo lavoro. Quasi vent'anni nelle risorse umane, io ho una laurea in psicologia del lavoro, organizzazione e marketing, quindi queste erano già le mie idee molto chiare, già nel mio percorso di studi. Ho iniziato lavorando sia in ambito di selezione del personale, ma anche dall'altra faccia della medaglia, come mi piace definirla, ovvero la consulenza di carriera. Ho lavorato in una grande realtà milanese qualche anno dopo la laurea, che è proprio specializzata una delle prime, ti direi forse anche leader, appunto nell'outplacement, che è appunto un servizio che viene offerto alle persone in uscita dalle aziende, dove appunto vengono accompagnate nel mondo del lavoro. Possono essere figure magari più generaliste come magari dirigenti, direttori e manager. Per cui insomma ho visto un po' a tutti e due i lati del... E infatti questo è molto interessante. Come cambia il settore delle danting, appunto della ricerca del personale, in Italia e in Svizzera? C'è un approccio diverso, è molto simile? Quali sono le differenze che tu hai trovato? Ma guarda, ti direi l'approccio potrebbe essere simile. Cambiano un po' le piazze, perché chiaramente insomma il Ticino è un po' più piccolino, se vogliamo. Un po' più a portata di uomo rispetto banalmente a una città come Milano, che è in continua evoluzione, crescita, sviluppo, molto dinamica e anche un po' nevrotica, se vogliamo. Usiamo anche un termine di questo tipo. Però diciamo che il processo è il medesimo. Hai un cliente che ha un'esigenza, per cui insomma attivi tutti i tuoi canali e cerchi di soddisfare ovviamente il bisogno. Per cui ti dico, a livello di approccio è molto molto simile. Certo. E anche poi è un altro stato, quindi bisogna un po' conoscersi. Sicuramente a livello magari qualche cavillo legale cambia. E per quanto riguarda la tua esperienza invece, quali sono le differenze proprio dal punto di vista delle d'unter, di lavorare in Italia e in Svizzera? Tu quali differenze hai visto e dove ti trovi meglio? Allora, io mi trovo molto bene in Svizzera e sicuramente possiamo, posso dirti, è molto più snello anche il processo legato all'onboarding. Banalmente la contrattualistica italiana è molto più elaborata, quindi al di là proprio del ruolo di ed-unter, ti direi è un po' più snello il passaggio successivo, perché in qualità di consulente ovviamente noi troviamo la persona, ma la seguiamo fino a tutta la fase di onboarding in azienda. e quindi spiegare un contratto collettivo nazionale in Italia che è composto da livelli, che ha una busta paga magari abbastanza infinita in termini anche di tassazione, ferie, permessi, roll, e tutto questo sicuramente in Svizzera è molto più snello, perché il contratto è quello. e insomma sono pochissimi elementi che vanno a comporre una busta paga, quindi ci aiuta tanto anche nel processo di selezione, perché appunto durante la fase di inserimento. Quindi una delle grandi differenze è proprio questa, secondo me, a livello contrattuale, dover spiegare a un candidato, una candidata, la retribuzione, come incide il loro, un netto, sono sempre aspetti che chiaramente le persone chiedono a un certo punto del processo di selezione e è molto più snello in Svizzera, sicuramente. Certo, chiaro. E tu immagino che ti trovi bene, perché ti vedo super sorridente, quindi vuol dire che il tuo lavoro ti piace, si vede che sei appassionata, quindi evidentemente sei contento. Insomma dai, ho per vent'anni, se sono ancora qui vuol dire che quasi, è vent'anni, così non svegliamo l'età. No, no, assolutamente ci mancherebbe. E se sei da quattro anni in Svizzera, insomma, vuol dire che continui a trovarti bene. Tu continui a fare avanti indietro dall'Italia oppure... Sì, sì, io risiedo in provincia di Varese, per cui è un comune anche abbastanza comodo e vicino rispetto a nostra sede. Noi siamo a Stabio, per cui proprio a un chilometro e mezzo sul confine dogana di Varese. Per cui sì, sì, guarda, dopo le esperienze milanesi ti direi che... È molto più scomodo andare da Varese a Milano che da Varese in Svizzera, quindi è assolutamente... Sì, esattamente, poi insomma, ripeto, è un'altra piazza. Molto frizzante, sicuramente interessante perché Milano ha sempre da insegnare qualcosa ed è anche molto formativa, soprattutto per chi inizia a lavorarci. Ti dirò, io poi in realtà ho girato anche altri posti, non solo Milano, però la base era un po' quella. Poi magari c'erano filiali o altre sedi, anche altri posti del capoluogo. Però, insomma, sicuramente è una città che offre molto termini di lavoro, molto formativa e quindi ti consente di avere anche un bagaglio esperienziale non indifferente. E poi quasi un po' di rendita grazie a queste esperienze perché... Certo, certo, certo. Immagino che a livello invece salariale per te la Svizzera sia migliore come livello salariale. Sì, decisamente sì. Con grande dispiacere dico questo perché poi in realtà, insomma, a parità di ruolo, è chiaro che negli anni si diventa anche senior. Peccato da punto di vista italiano perché le retribuzioni non sono magari consone rispetto anche al ruolo delle persone, a volte, questo non voglio generalizzare, ma... Tendenzialmente è così, certo. E Michela, tu hai detto che siete appunto un po' un punto di mezzo tra chi cerca lavoro o comunque valuterebbe nuove opportunità e chi invece cerca figure professionali. Come funziona materialmente? Se io cercassi un nuovo impiego, verrei io da voi o in qualche modo è solamente univo col canale e quindi siete voi che dovete arrivare da me? No, è univo. Assolutamente funzionano tutte e due le parti. Sì, 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 assolutamente. Poi sai, creando anche il network, spesso si rientra in contatto con le persone che magari abbiamo sentito l'anno prima, il mese prima, quindi rimane sempre un contatto molto vivo con i nostri candidati, per cui chi ha il desiderio di cambiare, valutare nuove opportunità, assolutamente ci può contattare, può mandare una candidatura o autocandidatura o eventualmente rispondere a un annuncio che comunque noi andiamo a pubblicare. Ok, quindi lasceremo tutti i riferimenti qui sotto nella descrizione del video così, chissà, che magari aiutiamo anche noi a incrementare il tuo network. Ho una domanda un po' più tecnica. Come sai, il canton Ticino proprio in questi mesi e nei prossimi mesi vedrà un cambiamento epocale dal punto di vista lavorativo perché abbiamo di fronte a noi tutta la tematica dei nuovi frontalieri, dei vecchi frontalieri. chiunque sta per lavorare in Ticino, lavora in Ticino e ha conoscenza di questo grande cambiamento, come cambierà il mondo del lavoro secondo te appunto con questa nuova caratteristica, ovvero con i nuovi frontalieri? Allora, questo è un tema sicuramente che stiamo vivendo in questo periodo, come giustamente dicevi, non ti nego che insomma un po' di cambiamento e un po' di preoccupazione può esserci. Prima di tutto perché è difficile anche far capire alle persone alcune tematiche dove prima eravamo molto più snelli, come appunto ti dicevo, oggi dobbiamo entrare un po' più nello specifico. Non ti nego che anche parlando con i nostri colleghi e anche con i nostri clienti un po' di preoccupazione c'è perché è chiaro che nel momento in cui parliamo di una tassazione che va a modificarsi poi non è tutto negativo perché assolutamente ci sono anche degli aspetti che possono essere integrati rispetto al frontaliere precedente o quello che è ancora finora perlomeno, però insomma si tratta di valutare insieme poi al candidato alcuni aspetti in sala reale perché poi è quello il tema, più tasse e magari quello che viene compromesso è sicuramente il salario rispetto a una tassazione che era un po' più agevolata. Cioè diciamo che questo cambiamento viene un po' fatto lato italiano anche per cercare di allineare un po' questa grossa differenza che oggi c'è tra un salario appunto italiano e quello svizzero e questo non potrebbe nel lungo periodo creare dei problemi per il Ticino perché già oggi mancano determinate figure professionali, tu sei specializzata nel settore IT e già oggi mancano queste figure, addirittura c'è uno studio della Confederazione che dice che nel attendere nel 2040 mancheranno qualcosa come 300.000 persone specializzate nel settore informatico. Come si stanno muovendo i tuoi clienti e come vi state muovendo voi in ottica comunque di questo gap che ci sarà in futuro? Ma allora guarda, tanta informazione, poi noi siamo in contatto anche con il sindacato in modo tale da avere ovviamente e tempestivamente notizie ufficiali possibile e iniziare con i candidati a abituarli a questo discorso e timidamente lo stiamo già facendo per cui cerchiamo anche di enfatizzare alcuni aspetti positivi che possono essere magari il discorso delle detrazioni, il fatto di poter fare un 730, una dichiarazione dei redditi e magari avere la possibilità di avere delle detrazioni fiscali, cosa che magari fino ad oggi il frontaliere non aveva banalmente, le spese mediche, chi compra la casa o altre agevolazioni dei bonus che potevano essere ai tempi 110 o sai, tutti aspetti che in alcuni casi bisognava rinunciare quando si iniziava lavorare e collaborare appunto con un contratto svizzero. Per cui cerchiamo di enfatizzare gli aspetti positivi, poi abbiamo comunque una franchigia, è tutto un discorso legato chiaramente alla retribuzione del candidato, non è poi così tutto negativo, è chiaro che non possiamo abituare le persone a questa piccola transizione che avverrà anche a breve e quindi è chiaro che può portare un cambiamento e ripeto anche i nostri clienti ci fanno delle domande soprattutto nell'ambito IT giustamente come dicevi abbiamo già avuto dei temi che ci hanno fatto riflettere banalmente post pandemia il discorso dello smart working dove in Italia era concesso addirittura un lavoro full remote in canton ticino no, per cui siamo dovuti adattare e non ho fatto anche i candidati, è chiaro che poi qualcosa sul piatto bisogna metterlo e si tratta un po' di educare le persone, tanta informazione lato nostro e quindi avere le idee molto chiare anche sul discorso delle tassazioni e quant'altro da poter trasferire ai nostri candidati. Tu Michele avrei fatto centinaia se non migliaia di chiacchierate colloqui con i candidati qual è un aneddoto che ci puoi raccontare appunto una cosa simpatica o strana che è capitata durante una di queste chiacchierate o magari che ha portato magari l'esito del tuo lavoro in maniera positiva o negativa insomma una cosa che ti piace raccontare del tuo lavoro? Ma allora aneddoti, poi sono sempre quelli più curiosi ma in alcuni casi irraccontabili direi però ma a me fa sempre sorridere in realtà che è una parte ti dico negativa però nel nostro lavoro c'è anche questo quando i candidati fanno ghosting a me fa sempre sorridere perché magari hai parlato, hai investito del tempo super convinti, motivati e a un certo punto spariscono perché non lo so perenne motivi non sono convinti in realtà fino in fondo o ci sono delle condizioni che non a loro non piacciono ma non hanno il coraggio di dirtelo e banalmente basterebbe una telefonata o un confronto guarda Michela ci ho pensato preferisco valutare oppure la famiglia si sta allargando ci sono tantissimi motivi per cui le persone magari decidono di fare un po' retro front e questa cosa mi fa sempre in realtà sorridere è chiaro che poi contestualizzato nel momento ti spiace perché perdi magari un candidato ma meglio in quel momento che presentarlo poi al cliente finale perché chiaramente è un investimento di tempo anche per il cliente per cui questa è la cosa che sicuramente mi fa mi fa sempre sorridere perché non riesce più metterti in contatto con nessun tipo di social o di messaggistica mail e non parliamo di ragazzini perché sai magari se ne ho laureato ancora non sa approcciare un colloquio il mercato del lavoro magari lo spaventa parliamo di manager che a volte spariscono e guarda io il mio socio che prima di lavorare assieme a me si occupava anche lui di ed hunting e mi ha sempre detto guarda che il trenta per cento delle mail arrivano senza il curriculum ma io dicevo impossibile c'è uno sta cercando lavoro non mette il curriculum e ho potuto sperimentare poi negli anni che per esempio questa cosa qui è vera è incredibile che tu mandi una mail con allegato il curriculum e ti dimenti di allegarlo incredibile infatti il classico libro nero con le cose curiose e poi è più mentale perché ci sono ma devo dirti che ogni tanto anche il cliente ha riservato delle sorprese qualche scivolone c'è stato anche ironico magari persone che non avevano parlato direttamente col board pensavano che dovessero già iniziare una collaborazione ma il candidato non sapeva ancora nulla quindi capitano delle situazioni comunicazione come nella vita come nella vita normale ultima domanda per te michela quali sono le figure in ticino più ricercate e le figure più pagate allora guarda occupandomi di haiti rimango insomma pertinente al mio settore ti direi sulla parte di sviluppo c'è sempre una grande necessità quindi parliamo di software isti con grandi capacità però è quindi davvero persone che magari hanno già 10 15 anni di esperienza ce n'è sempre bisogno perché chiaramente immagini a livello di azienda sono figure assolutamente ricercatissime e non è così facile trovarle anche perché sono ben retribuiti anche per chi vive in italia lavora chiaramente sulla piazza di milano che è quella consente magari deve degli stipendi migliori a volte facciamo un po' fatica insomma anche con delle retribuzioni svizzere non ti nego che magari lavorando nelle big four o in realtà molto strutturate è difficile magari insomma così trovare un contatto per cui tutta la parte di sviluppatori it manager director tutta la parte anche di commerce sicuramente in pieno sviluppo sviluppo chi è più pagato beh insomma dipende anche dalla disponibilità del cliente perché ci sono aziende magari piccoline ma che consentono di avere a bordo delle persone con degli ottimi stipendi quindi è chiaro che più si sale i ruoli di director è chiaro che hanno delle retribuzioni molto ben retribuite per cui ecco questi diciamo che sono le figure più ricercate in ambito it quindi che lavorano magari spesso all'interno di banche ok ok ben retribuiti la nicchia la nicchia comunque del finanziario è sempre anche in finance quello è il mondo di riferimento e ricerca sempre figure di questo tipo dagli analisti chiaramente fino ad avere anche la parte di sviluppo software dati sono figure molto ricercate ultimissima cosa ti devo mandare un curriculum qual è l'errore che non devo fare o qual è il consiglio che puoi darci per fare breccia nel nel tuo cuore beh hanno sicuramente il dono della sintesi è sempre ben consigliato perché uno due pagine massimo anche perché è veramente dispendioso leggere un curriculum che è formato da 5 6 7 8 pagine non serve inizia essere una tesina per cui sintesi l'errore potrebbe essere anche quello di omettere i dati di contatto numero di telefono una mail alcuni omettono la data di nascita può essere una scelta magari in alcune età dove non si vuole proprio manifestare poi si arriva in qualche modo leggendo il curriculum più o meno però quello non è un problema per lo meno i dati di contatto perché poi diventa difficile magari e ci capita di ricevere magari delle degli ottimi cv e dopo devi cercarle ovviamente tramite altri canali e diventa anche per noi impegnativo quindi assolutamente dato una bella sintesi professionale come presentazione di se stessi chi siamo cosa sappiamo fare cosa vogliamo fare e poi insomma andare in ordine anticronologico per quanto riguarda le esperienze di lavoro dove si lavora quale ruolo si ricopre e quali sono le principali responsabilità quindi l'esperienza più recente in alto anche qui ogni tanto arrivano al contrario dici ma cavolo considerati un manager che ha 25 anni di esperienza dover rileggere dalla laurea a salire quindi chi sei oggi cosa sai fare perché cosa ti proponi se hai un'autocandidatura e magari un riferimento se è una candidatura a un annuncio che magari abbiamo pubblicato foto si foto no sul cv guarda a discrezione ti direi io non sono una grande promotrice delle foto in generale sostengo che la foto arrivi prima del curriculum e ora si trova dall'altra parte per cui non la consiglio però direi michela grazie mille sei stata gentilissima poter attingere dai tuoi vent'anni di esperienza in questo ambito grazie mille grazie a te buona giornata ciao grazie ovviamente lascio tutti i tuoi riferimenti in descrizione così che se qualcuno volesse proporsi o qualche azienda volesse risparmiare del tempo nella ricerca dei candidati può far riferimento a te